E' ora sta girando la polizia, collega, adesso lo vanno a prendere, adesso buttacca. Ma siete? E' entrato Lucacino esagerato, buona bella notte. E' come se la ride, e' come se la ride tranquillo e beato col cane lì davanti. Ma questo sta fuori, questo è di fuori. Ma fermatelo, perché è periodoso, che ha fatto lui? Grazie.